Sì. Bene. Vediamo che roba è. Cos'è? Va avanti veloce. Chi è questo? È Tommy Lee, il batterista dei Motley Crew. Dove hai preso la cassetta? Tu va avanti. Fermo. Va avanti veloce. Ok. Porco, quella è Pamela Anderson. Sì. Va avanti. Indietro. Indietro. Schiaccio play, play, play. È così intimo. È come se vedessimo qualcosa che non dovremmo vedere. Per questo è ancora più eccitante. Se il video dovesse uscire... Più il tempo passa e più il video circola. Baby, lo recupereremo. E per me non è un problema. In quel video ci sono anch'io. No, non come ci sono io. Ci siamo. Che cavolo è questo? Ed. E noi non è coi. Grazie. Ciao. omma...